Buongiorno, buon anno, buon anno anche da tutti gli uccelli e niente volevo dirvi i propositi di quest'anno a livello di video. Punto primo, TikTok non sarà abbandonato in maniera definitiva perché caricherò i video ma ho deciso di non leggere più i commenti né di rispondere più a un cazzo di nessuno quindi se mi segui su entrambe le piattaforme lascia perdere TikTok se vuoi seguirmi la seguimi se no non me ne frega manco un cazzo non elimino il profilo solo ed esclusivamente per due ragioni Punto primo, il mondo non capendo un cazzo di social network pensa che i followers di TikTok abbiano un senso in realtà non ce l'hanno, non ti garantiscono né visibilità né nulla però fa curriculum dire ho 350.000 followers vuoi partecipare e faccio fare una collaborazione quindi me lo tengo anche perché poi i followers crescono non si sa bene perché quindi vabbè quello lo teniamo La seconda ragione è che io ancora non ho finito di scaricare tutti i video da TikTok quindi purtroppo TikTok rimarrà, io ci carico i video quindi sti cazzi Instagram rimane invariato, non dico che sia il mio primo, cioè è il mio primo social perché uso solo questo come social però mi concentrerò di più su YouTube perché in realtà sto facendo video lunghi farò sempre i video corti, non ho alcuna intenzione di eliminare i video corti, mi divertono tantissimo però farò anche video solo ed esclusivamente lunghi quindi il mio proposito di quest'anno è imparare a fare meglio i video lunghi però ho sempre i video lunghi fatti alla merda, cioè non ho alcuna intenzione di fare nel formato orizzontale perché tanto YouTube si svegli, da qui gente usa YouTube solo dal telefonino per fare i video di merda che faccio io come questo, non vedo perché deve stare in orizzontale tra l'altro non ho i mezzi per farlo e non mi sembra che i video di YouTube anch'io fossero più belli dei miei cioè semplicemente si vedeva la cucina, quindi vabbè sti cazzi e non molto altro, sappiate che tra un paio di settimane mi do ancora un po' di tempo vi farò un video sulla mia alimentazione e su quello che mi è successo negli ultimi mesi ma non mi sento ancora pronta, quindi aspettiamo ancora un attimo perché purtroppo tra il fatto che sia tutta sta merda al supermercato tra il fatto che la mia routine è stata comunque spazzata via dai giorni di ferie dove tutto è chiuso e non isci bla 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 bla, non sono stati dei giorni meravigliosi quindi mi voglio dare un paio di settimane e poi a quel punto vi do la formula segreta dell'autismo per risolvere i vostri problemi autistici sull'alimentazione, se siete come me se non siete come me il video sappiatelo, non vi servirà un cazzo poi, che altro dire? niente, niente niente di niente di niente di niente ah, poi io, no, questa ve la devo dire su TikTok io veramente non capisco cioè, perché io ho preso questa decisione e me la dico lasciamo stare il solito discorso che quello è il bullismo cioè tu metti un video qualsiasi l'altro giorno ho messo un video di tre minuti che era semplicemente l'estratto di un video di 20 minuti di YouTube non mi sono neanche... non ho fatto niente l'ho preso e l'ho messo troncato a tre minuti e sotto un solo commento ricevuto perché ormai io non commentando più di là si vede nessuno mi caga giustamente e un solo commento in quel video e hanno estrapolato una frase del mio video lungo per insultarmi TikTok è quel posto dove tu metti dei video intelligenti e sotto le scimmie tirano la merda questo è quello che fanno per il resto se tu ti connetti un giorno una volta al giorno e vai a vedere i commenti cosa che non farò mai più parlano una lingua sconosciuta non si capisce un cazzo di quello che dicono lasciate stare quello che dicono di base ai concetti che sono sempre la merda cioè insulti e prese per il culo ma come lo dicono è una cosa che non riescono a scrivere una frase giusta e tu dici hanno 12 anni no io ve lo ripeto su TikTok l'età media si è alzata cioè è giallo zafferano ci sono gli adulti su TikTok non è più come pensate che state fosse magari quando c'erano i bambini almeno andavano a scuola e scrivevano giusto quindi loro riescono a dire cosa del tipo il zuppa è buonissimi cioè grave così scrivono solo così ma quando dico solo intendo solo cioè non c'è nessuno che sa scrivere un italiano io pensavo che l'italiano fosse segnato in disuso poi ho cominciato a leggere i commenti su YouTube e ho scoperto che no la gente sa ancora scrivere è su TikTok non lo so cosa cazzo cioè quelli che commentano sono tutti delle scimmie ma scimmie vere probabilmente se potessi andare a vedere chi c'è da parte del telefono probabilmente trovo uno scimpanzé vado ad allenarmi buon anno no?